Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento organizzato da Rete Informatica Lavoro. Siamo il portale del lavoro numero uno in Italia dedicato al settore informatico. Sono Maria Lucevilla, marketing manager sia di Rete Informatica Lavoro che di tutto il gruppo Performa Group. Prima di iniziare, come sempre, facciamo sempre le solite progetti, quindi se mi vedete e sentite correttamente, se potete scrivermi in chat così posso capire. Grazie mille. Vedo Elena che scrive, perfetto. Grazie mille a tutti. Buona serata, intanto approfitto per salutarvi in chat. Rete Informatica Lavoro, come sapete, tanti di voi lo sanno, non è solo una job board. Siamo gli organizzatori del Tanger Day e con la nostra Academy stiamo organizzando questi webinar tecnici ogni giovedì sera e periodicamente corsi di formazione più completi. In questo momento abbiamo la campagna di iscrizione per il bootcamp intensivo per Java Spring Framework. Ricordo che è un corso di 16 ore in orario serale. Volevo condividerlo anche questa sera nella chat così potete consultare il programma, le date di inizio, le modalità di iscrizione, la tariffa. Vi invito a condividerlo anche ai vostri colleghi, se avete colleghi di Java Developer o chiedere all'azienda se possono supportarvi nella partecipazione di questo corso. Mancano solo cinque posti. Ok, bene, allora partiamo con il webinar di questa sera dedicato alla creazione di applicazioni, lo code per desktop e mobile con Delphi. È la prima volta che ne parliamo. Delphi è un linguaggio di programmazione molto conosciuto ma spesso viene sottovalutato. Chi di voi, volevo chiedervi in chat, chi di voi lavora con Delphi? Vediamo se c'è qualcuno che quotidianamente lavora con questo linguaggio di programmazione. Valerio, ok, sì, bene, ci sono tanti programmatori che lo utilizzano. Bene, allora grazie ai relatori di questa sera, infatti ne parleremo per la prima volta, come vi dicevo, di mostrare un potenziale e perché dovreste considerarlo come una valida opzione per creare applicazioni. Invito quindi Marco Breveglieri, sviluppatore software, trainer e consulente IT, alla sua prima diretta con noi con Rete Informatica Lavoro. Benvenuto Marco. Eccomi, vediamo. Ok, ciao a tutti. Ci sei. Buonasera e benvenuto a questo webinar di Rete Informatica Lavoro. Ti lascerò poi il tempo di raccontarti e quindi io ho fatto una breve introduzione. Volevo chiederti, come sempre, in 30 secondi una panoramica di cosa vedremo questa sera. Allora, diciamo, la scelta un po' del materiale è orientato a fare un escurso su quello che è Delphi in termini di che cos'è, per chi non lo conosce, quali sono gli strumenti che comprende, che tipo di applicazioni permette di fare. Invece stavo sbirciando la chat, ho visto che qualcuno ha scritto, lo usavo non più anni fa, rinfrescare un po', come dire, magari la memoria, chi ne ha fatto uso in ambito scolastico, perché so che per certi versi è stato, viene usato anche in quel frangente, quindi aggiornare anche queste persone su quello che è lo stato dell'arte ad oggi di questo ambiente di sviluppo e anche linguaggio di programmazione che ci ha tenuto, insomma, un po' a portare più che altro perché credo che rispetto ad altre soluzioni più blasonate che si sentono, diciamo, i nomi come .NET, parte Microsoft o anche Flutter oppure vari tool che spesso troviamo in giro nei webinar, abbia comunque un suo potenziale per lo sviluppo di applicazioni e collegandomi al discorso che si faceva nell'ambito del lavoro, siccome ad oggi lo sviluppo software è un tipo di attività molto richiesto e quindi è, come dire, potenzialmente un'opportunità per chi vorrebbe magari iniziare o cimentarsi a fare in questo campo, penso che possa essere uno strumento utile per iniziare a lavorare e produrre qualcosa che sia commerciabile, come dire, non evitando con quello che deriva anche dall'esperienza, cioè dicendo non essendo un cattivo programmatore ma magari concentrandosi più su funzionalità e qualcosa del genere e nel frattempo iniziare a formarsi come sviluppatore e ovviamente ad acquisire poi tutta quella che è l'esperienza che mi consente di via via creare soluzioni più complesse, però dal punto di vista basilare partire anche da qualcosa di realizzabile. Chi invece l'ha sentito nominare ha un'idea che magari potrebbe essere vecchiotta o sbagliata, vedere un attimo qual è effettivamente le potenzialità e le caratteristiche dello strumento a 360 gradi, prima con un'introduzione molto, con qualche slide, ma poi anche con qualche prova, cioè esempio tecnico con qualche progetto, cioè provare a fare qualcosa assieme così da quello magari emergono anche domande, se ci sono chiarimenti, che poi vedremo se non mi sbaglio alla fine. Sì, sì, ok, perfetto. Allora, come Marco ha anticipato risponderà nella parte finale del webinar, se volete iniziate a scrivere le domande nella sezione apposita, mentre la chat sarà un po' utilizzata per scambi veloci. Allora, benissimo, io lascio la parola a te Marco, quindi buon webinar a tutti, ci vediamo nella parte finale per le domande. A dopo. Se hai bisogno, sono in ascolto. Perfetto, grazie mille. Allora, dovrebbe essere visibile in primo piano le slide, quindi c'è un'agenda, cercherò di andare molto veloce, più che altro perché i contenuti sono tanti e abbiamo un po' giustamente tempi ristretti, quindi Delphi in due parole, anzi 100, diciamo è un ambiente di sviluppo integrato per lo sviluppo di applicazioni native, è un linguaggio di programmazione, è un tool visuale, quindi in realtà Delphi è tante cose, una breve storia di questo prodotto che nasce nel 95, quindi oltre al Festival Bar nel 95 avevamo anche, come dire, Delphi 1.0 16-bit che fa la prima comparsa, è un successore del tubo Pascal che sicuramente è un, come dire, è molto più conosciuto come linguaggio, come termine, come ambiente, anche se per molti è un successore, ma è rimasto a quel livello, invece abbiamo una storia abbastanza, come dire, articolata di questo prodotto, quindi la versione 2.0 32-bit esce negli anni successivi, in questi anni tra l'altro abbiamo, spesso si dice di Delphi che è un linguaggio vecchio, in un certo senso, però negli stessi anni abbiamo l'apparizione anche di altri linguaggi che ad oggi stanno vivendo una seconda giovinezza, tra cui Python, abbiamo anche JavaScript, negli stessi anni ovviamente c'è il discorso di Java, C++ è nato ancora prima, quindi diciamo che le tasse la porta bene, in quanto in questa timeline vediamo che ha abbracciato via via, è nato come ambiente di sviluppo per Windows, prettamente per Windows e anche oggi ancora lo è e gira fondamentalmente su Windows, però ha abbracciato per un tempo in realtà limitato anche la parte di .NET trasformando l'ambiente in un ambiente completamente ancorato e quindi un pochino più moderno, è stato creato da Borland che poi diciamo ha creato una società che si chiama Codegear che poi è stata ceduta e quindi c'è stato anche un po' di mercato a Embarcadero che è una società che fa parte del gruppo Idera, che è un gruppo che produce tool per database fondamentalmente ma ha iniziato ad acquisire come gruppo anche tutta un'altra serie di tool per cui c'è una slide con qualche nome per farvi capire che oltre a Delphi alcuni di questi tool probabilmente li avete già sentiti nominare, quindi questo brevemente nel corso degli anni, 2015, sono nate delle nuove versioni, è stato aggiunto il supporto multi device e cross platform, per cui ci torno in dettaglio più avanti, quindi oltre a Windows si sono aggiunte diciamo altre piattaforme per le quali Delphi in grado di produrre degli applicativi e 2023 febbraio, questo mese, è previsto il rilascio di una realtà, vabbè il numero di versioni è sbagliato, però c'è una nuova versione in arrivo, quindi di solito il periodo di San Valentino, il periodo degli innamorati ma anche l'anniversario di Delphi perché attorno al 14-15 febbraio è stato rilasciato la prima volta e questo mese c'è sia una piccola conferenza con qualche, che organizza un barcadero con qualche approfondimento e a fine mese un webinar con una versione aggiornata con delle novità, quindi al momento su questo non si può dire più di tanto e quindi giusto per sfatare i miti, quindi come vedremo Delphi non è quello che vedete a sinistra il vecchio turbo Pascal, non è questo nuovo che vedete per Windows ma è un ambiente che diciamo in termini di feature e caratteristiche è assimilabile a quello che possiamo trovare in un Visual Studio e il linguaggio Delphi in sé che deriva da un object Pascal e ha le potenzialità generalmente e le stesse finalità che potremmo attribuire ai linguaggi C Sharp oppure a Java, quindi un linguaggio tipizzato per costruire delle applicazioni che possono essere visuali oppure dei servizi, quindi applicazioni di questo tipo e si contrappone ovviamente a linguaggi più scriptati o più dinamici come possono essere Python, ad esempio JavaScript, quindi occupa diciamo questa sfera, questi sono alcuni dei brand di Dera, quindi Embarcadero è attualmente la società che gestisce questo ambiente di sviluppo, però in mezzo troverete sicuramente ne sono certo i nomi noti, ultra edit, è un editor di testo molto famoso, Rano Rex per qualcuno che ha avuto occasione di vedere test, come dire, di interfacce automatizzate, Sencha è famoso per XJS che è un framework molto molto diffuso per lo sviluppo di applicazioni con JavaScript, quindi diciamo che ogni tanto più lucano quella e acquistano qualche marchio, però hanno diciamo, hanno da investire a quanto pare, perché ne parliamo questo in realtà l'ho già detto un po' nell'introduzione, però anche come dire nella mia attività quotidiana io seguo un po' un mantra che chiunque se vuole fare lo sviluppatore lo può fare, perché l'esperienza conta, lo studio conta ovviamente, però credo che a un certo livello ci sia la possibilità di accedere, di sviluppare per chi ovviamente ha un indole e un minimo ovviamente di impegno e di volontà di formarsi c'è, ma in questo caso anche il portale Rete Informatica Lavoro fa corsi, quindi può esservi utile, però anche con un po' di passione quantomeno è possibile divertirsi e questo secondo me è un tool che per gli hobbisti è particolarmente adatto proprio perché consente di sperimentare con tante tecnologie, non solo con Android, ma anche c'è chi l'ha utilizzato con Raspberry, io ultimamente l'ho testato con Docker, quindi c'è come dire di che divertirsi, oltre ovviamente a dover fare per chi sviluppa professionalmente anche il lavoro di tutti i giorni. A tal proposito, è un ambiente, un prodotto commerciale ovviamente, però esiste una versione che la richiesta maggiore generalmente viene scartata a priori perché non tutti sanno che Delphi è disponibile anche con una versione community che è gratuita e a differenza di alcune versioni starter che venivano distribuite in passato, contiene tutto, nel senso che non è limitato a Windows, ma ci sono tutte le piattaforme, macOS, iOS, quindi grosso modo l'ambiente è completo, mancano alcune cose di classe enterprise come possono essere, non so, il modeling, UML o delle cose che sono tipiche per chi fa un uso aziendale, però a livello di sviluppatore individuale non c'è, ci sono tutti gli SDK, i tool, l'editor integrato, si possono installare package in terze parti, quindi non ha questo tipo di limitazioni. Quindi per chi inizia, per chi vuole provarlo a casa si può registrare dall'indirizzo che c'è qui sotto, poi avrete le slide da scaricare, quindi lo troverete già dal sito embarcadero.com, c'è un link che fa scaricare diversi compilatori C++, c'è Delphi, ci sono vari prodotti, c'è anche PyScript che è un IDE per Python fatto in Delphi, quindi ci sono un po' di cose che si possono scaricare per lavorarci sopra. Una panoramica quindi delle caratteristiche principali poi le vediamo poi nel concreto, nell'interno dell'ambiente, quindi ho cercato di raggruppare in questa carrellata un po' disordinata, breve ma non esaustiva, le caratteristiche principali, o meno quelle che io apprezzo di più, il fatto di avere un compilatore performante quanto meno su Windows, senz'altro, ma anche sulle altre piattaforme è soddisfacente e trovate su YouTube un filmato dove si compilano milioni di righe in realtà in meno di 5 secondi, quindi è particolarmente apprezzato perché avviare un'applicazione e creare un Edge è abbastanza rapido. C'è un IDE funzionale, quindi l'ambiente offre un insieme di strumenti con cui io posso lavorare principalmente con una programmazione oggetti, però strutturata in modo tale che questi oggetti possono essere manipolati anche in fase di progettazione e io visualmente ho dei menu dell'interfaccia con cui posso configurare l'interfaccia utente, in questo caso, ma anche parte di business logico, di accesso ai dati, usando dei menu, usando delle funzionalità che sono disponibili nel IDE a portate di clic. Ecco, diciamo, posso crearmi diversi desktop con le finestre disposte in un certo modo, salvarmele, ripristinarmele, io tengo spesso diversi profili a seconda dell'utilizzo per corsi, per live, eccetera. Il linguaggio, qui il fonte è venuto un po' piccolino, ma lo leggo io, è un linguaggio Pascal, ma non è ovviamente il Turbo Pascal, è un linguaggio Pascal moderno, è molto espressivo e leggibile come lo è il Pascal e come lo è sempre stato, tant'è che è un linguaggio che è sempre stato propedeutico soprattutto per chi appunto impara la programmazione, però ovviamente è dotato di tutto quello che serve per gestire quello che è lo sviluppo software attuale, quindi abbiamo delle interfacce intese come interface, appunto, classi astratte, metodi anonimi, metodi anonimi, closure, i generics, che ad esempio da C++, programmazione asincrona, la RTTI, runtime type information, ovvero quello che è la reflection in altri ambienti, il reference counting perché non c'è di fatto un garbage collector e quindi tanto altro ancora, per cui il linguaggio è un linguaggio alla portata di quelle che sono le esigenze attuali di oggi. Dal punto di vista, questo a mio avviso, del supporto per Windows, cioè della creazione di applicazioni per Windows, è impareggiabile nel senso che la libreria VCR, che è una delle librerie che poi vedremo, che è incorporata nell'ambiente sin dalla sua nascita, quindi quest'anno festeggia il 28esimo compleanno, dal 95, è secondo me la migliore che esista per sviluppare applicazioni desktop per Windows. Windows Form non è, secondo me, alla stessa altezza per tutta una serie di ragioni legate al fatto di standard Windows che vengono abbracciati e continuano a essere supportati senza inseguire magari delle chimere come può essere l'Universal App o delle applicazioni degli standard che nascono e muoiono un po' troppo in fretta, un Silverlight, quindi un po' queste librerie che sono nate e nativa, quindi le API sono tutte importate all'interno del prodotto, quindi posso usare tutte le API di Windows e con questi componenti ho un supporto ai temi, ho un supporto, come si vede in queste schermate, di controlli che hanno il look and feel tipico di Windows, diciamo Windows X, 1X perché 10 e 11, anche in realtà su piattaforme che non sono Windows 11 perché il controllo è disegnato in questo modo e diciamo mima quello stile, possiamo customizzare le barre del titolo, possiamo utilizzare diversi temi, quindi dal punto di vista dello sviluppo Windows è sicuramente una delle librerie più mature e più stabili da questo punto di vista che esistono, poi col tempo è arrivato anche il supporto a cross platform che è realizzato con un'altra libreria che si chiama FireMonkey o FMX abbreviata, che disegna le interfacce, è una libreria grafica e quindi con le sue primitive disegna delle interfacce, quindi riquadri, controlli e interfacce utenti interfacciandosi con la scheda grafica il suo vantaggio è quello di poter approdare su diverse piattaforme quindi non solo Windows ma anche su Mac, su iOS, su Android, su Linux di fatto con un'interfaccia che si adatta a quelle che sono le caratteristiche del dispositivo ovvero io ho un controllo a schede, con le mie schede lo metto su una finestra se vado a vederla su Android le trovo in alto con lo stile tipico di Android se vado su iOS le trovo in basso bianche con la scrittina blu e quindi diciamo che a livello di temi è una libreria che riproduce graficamente l'interfaccia utente seguendo lo standard della piattaforma in alternativa c'è anche la possibilità di utilizzare dei controlli con un flag sul controllo, ad esempio una casalla di testo, di dire utilizzo la sua versione nativa della piattaforma ovvero vado a chiamare direttamente l'API per implementare quello specifico widget usando l'API del sistema operativo quindi se ho dei tool che mi aiutano nell'inserimento di dati eccetera oppure aggiorno il sistema operativo l'interfaccia viene mostrata con il sistema nuovo mentre nell'altro caso dovrei essere io che vado ad aggiornare l'applicazione però se utilizzo e personalizzo completamente la grafica potrei dare alla mia applicazione come spesso accade sulle applicazioni mobile soprattutto un look and feel completamente personalizzato e identico a prescindere dalla piattaforma in cui ci troviamo se utilizzate Facebook su iPhone, su Android vedete che più o meno il suo rendering è uguale perché hanno creato uno stile e l'applicazione appare uguale su tutte le piattaforme si aggiunge anche Linux che è supportato proprio come client, come applicazione visuale però su queste piattaforme ovviamente posso sempre fare il deploy anche di applicazioni console di servizi quindi anche di necessariamente non sono applicazioni che hanno un aspetto visuale necessariamente il vantaggio che otteniamo qual è che è single source una code base, un team di sviluppo ovvero nel mio progetto io sviluppo un singolo progetto, lo lancio in Windows, mi piace faccio doppio clic su Android, faccio run e lo vado a eseguire su un dispositivo Android senza dover creare un progetto ad hoc questo è uno dei vantaggi di utilizzare questo tipo di... esattamente come avviene ad esempio in Flutter con una differenza che si scrive molto codice mentre qui abbiamo una ricca toolbox di componenti e controlli già pronti quindi tramite fondamentalmente un drag and drop trasciniamo e configuriamo dei controlli che possono essere toolbar caselle di testo, trackbar, switch, toggle cioè tutti i vari controlli che avete tipicamente a disposizione in qualsiasi ambiente di sviluppo diciamo e lo si configura sia nel lato VCL per Windows sia nel caso di FireMonkey perché vale per entrambe per tutte le piattaforme e io posso vedere a design time come verrebbe la mia applicazione a livello di aspetto e di fatto come appare nelle varie piattaforme ci sono poi strumenti per il codice, per unit testing supporto Git, subversion quindi anche l'integrazione di continuous integration continuous delivery quindi anche nell'ambiente ci sono varie forme per integrarsi a questi sistemi qui c'è una parte che riguarda il data binding ovvero una delle caratteristiche più apprezzate il fatto di, che è sempre stato un mantra per Delphi di potersi collegare a una quantità di base di dati veramente forse la più ampia possibile perché all'interno ci sono diverse librerie c'è il vecchio ADO diciamo chiamiamo così la tecnologia OLEDB com c'è FireDuck che è la sua libreria di componenti attuale è quella che si usa abitualmente per accedere ai database qui vediamo un elenco non esaustivo perché potrebbe esserci altri driver però Advantage, C-Base, DB2 FireBird, Interbase, MongoDB, SQL Server ci sono praticamente tutti grazie a questo, come dire, strumento di binding visuale qui vediamo un pezzettino del designer possiamo praticamente accedere al DB aprire una tabella, collegare ad esempio la tabella a un controllo che fa la lista di tutti i record e un campo a una parte di quella lista come vediamo qui ci sono delle coordinate e fondamentalmente l'ambiente apre, esegue la query e li fa vedere direttamente nel controllo anche in fase di progettazione cioè mentre stiamo scrivendo l'applicazione mentre la stiamo proprio progettando visualmente è utile perché così uno può prendere un po' le misure e già adattarsi in un certo senso a quello che è l'aspetto migliore per rappresentare i dati che potrei già avere come esempio ma esiste anche un data source che genera dati casuali che può essere usato al posto di quello reale per avere un'idea di cosa può occupare in termini di larghezza magari una colonna contenente certe informazioni qui fondamentalmente è la stessa cosa il fatto di poterli vedere a design time è proprio come avere l'applicazione che già gira senza ancora averla lanciata quindi avere già un'idea di quello che sarà l'applicazione finale c'è un tool scaricabile a parte che fa il live preview sul dispositivo ovvero lanciando l'idea io mentre sto progettando scarico un'app sul mio telefono se sono in wifi l'app e l'idea si cercano il mio idea compare in un elenco my desktop c'è l'indirizzo IP se pigio praticamente faccio uno streaming sul dispositivo di quella che è la schermata che sto progettando quindi è un po' come già esposto un'etichetta magari cambio una label e vedo sul dispositivo come verrebbe renderizzata quando l'applicazione è impacchettata completa e finale quindi l'applicazione non sta girando è qualcosa che trasmette solo l'aspetto quindi se cliccate lo switch lo switch si sposta però a livello logico non fa nulla perché l'applicazione non è in funzione è solo un'anteprima però quindi la vedete stilizzata sia nell'ambiente ma volendo se uno vuole proprio essere sicuro di come viene vederla anche sul dispositivo streamata praticamente in diretta quindi in questo caso tutte le tecniche che altri ambienti utilizzano ad esempio l'outreload perché serve avere l'outreload in tutti gli ambienti che lavorano con il web con questi principi perché io cambio il codice e vedo come viene correggo ancora il codice e vedo come viene in questo caso io lo vedo subito perché è un what you see what you get in fase di progettazione cioè io scelgo la posizione progetto direttamente visualmente quella che è la mia applicazione quindi diciamo che faccio anche una parte di prototipazione assieme allo sviluppo poi se mi piace e l'applicazione voglio lasciarla così la posso anche lasciare in questo modo e non c'è nessun problema c'è il supporto ai maggiori app store perché ovviamente compilando per le varie piattaforme quando io voglio rilasciare l'applicazione devo caricare tramite delle maschere di opzioni qui vediamo c'è quella di windows perché esiste il windows store quindi potete mettere applicazioni sul windows store sullo store di ios sullo store di google ci sono delle maschere che vi fanno caricare i certificati per firmare gli eseguibili quelli che vi i vari e specificare i vari di quindi fare il cosiddetto provisioning ovvero crearvi un profilo con i vostri dati da sviluppatore apple oppure sviluppatore android per far sì che poi l'applicazione possa essere firmata e possa essere caricata poi sullo store per poterle pubblicare e renderle poi accessibili a tutti gli utenti dei suddetti store incluso quello di microsoft che generalmente ad esempio in visual studio non c'era inizialmente un supporto per questo per il cosiddetto apix cioè quel quel package per distribuire le applicazioni sullo store a meno che non si facesse un'applicazione per il windows store quindi in questo caso uno fa il progetto che vuole e questo wizard comunque lo incapsula all'interno di questo contenitore che può essere caricato sullo store di microsoft poi vabbè qui sorvola un po' i vari stack trace tutto quello che è il debugging i tooltip del valore delle variabili il logging esterno quindi tutta una serie di cose che sono ovviamente vado veloce perché ci sono su qualsiasi ambiente di sviluppo c'è un package manager che si chiama get it che è anche un portale di riferimento e con questo voi potete scaricare tutto quello che non c'è già incorporato ci sono un sacco di componenti gratuiti per collegarsi a dispositivi bluetooth componenti per fare grafici pdf librerie grafiche c'è come google skia ad esempio c'è fast report per i report quindi la maggior alcune cose stili aggiuntivi per le applicazioni quindi ci sono c'è di tutto e di più sia gratuito sia commerciale perché qualche tool ovviamente è un po' più raffinato e quindi magari esiste in più versioni c'è una trial quindi è un po' il punto di accesso a tutte quelle risorse che poi posso voler andare a installare una volta che l'ambiente è come dire l'ho installato e voglio vedere un po' qualcosa di più dato che la pratica quindi il demo il demo time giusto per per vedere un po' adesso cerco di condividere intanto lo schermo se ci riesco vediamo condivido lo schermo integralmente così non ci dovrebbero essere bisogno di eccolo qua che con l'audio dovrebbe esserci già visibile ok l'ambiente ok che è già aperto grazie per la per la conferma questo è l'ambiente attuale il mio è già un po' personalizzato quindi non è proprio quando lo avviate la prima volta generalmente vi propone una welcome configuration mi dice lo vuoi light lo vuoi dark una volta era sempre bianco adesso il dark l'hanno aggiunto perché se non ce l'hai scuro sei un boomer quindi giustamente bisogna Marco scusami potresti aumentare un po' la risoluzione aumentare o ridurre nel senso ingrandire allora qualcuno Valerio dice che non si vede vediamo cosa non è chiaro io lo vedo con una risoluzione un po' bassa schermo nero allora adesso prova a riproporlo ma dovrebbe ok Valerio prova a uscire dal webinar e rientrare e forse lui può vedere la schermata completamente nera adesso qui queste scritte sono piccoline però ve le zoom quindi ok quando puoi magari qualche zoom perché adesso ve lo mostro nel dettaglio ecco qui ci sono ci sono un po' una carrellata di tutte le cose che ad oggi si possono sviluppare come ad esempio applicazione VCL è per Windows ovviamente multi device è quella che indirizza più piattaforme i package sono un po' come assembly dotnet come package java quindi sono librerie che racchiudono classi e altre cose da riutilizzare in più progetti la console application è la console application una riga di comando però ovviamente compatibile non solo con Windows ma anche con Linux e tutte le altre come dire piattaforme la DLL solo Windows è la vecchia DLL poi abbiamo di Unity progetti di test poi abbiamo dei singoli file però ecco questo è il welcome che vi fa scegliere il colore quindi potete metterlo se vi piace più chiaro più scuro adesso magari se ce n'è qualcuno che è più leggibile però tanto vi se vado in questa finestra ne vediamo altre ancora quindi di fianco a ogni progetto trovate sempre le piattaforme di riferimento che sono indirizzabili con quel tipo di esempio la console application non gira su Android iOS ma solo su ambienti desktop perché non abbiamo tecnicamente l'avremmo è vero non abbiamo il terminale per esempio l'Android service ovviamente è solo Android quindi alcune alcune cose sono specifiche solo per certi tipi di piattaforma e questi sono alcuni progetti però abbiamo anche multi device abbiamo ad esempio dei template per iniziare con un progetto che ha già una sua struttura oppure la multi device application che è quella vuota però ci sono anche RAT server un server web abbiamo una web server application che è un'applicazione web con cui si possono fare delle rest API oppure delle applicazioni MVC eccetera anche questa cross platform si può installare in Apache IIS cioè può diventare un modulo di un web server esistente oppure come spesso accade faccio un'applicazione console la metto magari in un docker quindi ci sono varie varie soluzioni con cui si può incapsulare questa soluzione poi lato web poi ci sono i progetti di test insomma qui ci sono addirittura ActiveX per qualcuno che ha bisogno di lavorare con tecnologie un po' legacy un po' cioè che sono che sono sempre presenti perché se le spegnete se spegnete di com in windows non funziona più nulla però non sono ovviamente portati da microsoft come l'ultimo ritrovato della tecnica perché spinge su altro ma ci sono ancora quindi per certi versi può tornare comodo applicazioni qui su windows per il pannello di controllo un servizio windows questi sono molto molto quelli che finiscono nell'elenco dei servizi di windows mentre con l'applicazione linux potete fare un demo potete fare quindi ci sono diverse vabbè poi varie file diverse opportunità ad esempio parto con un'applicazione windows vcl così vediamo cosa viene cosa crea l'ambiente mi inizializza un'applicazione vuota con all'interno una finestra che è la finestra principale di progetto in cui io posso iniziare a progettare la mia applicazione la posso già lanciare posso salvarla ad esempio io di solito faccio una sorta di to do list perché so che è l'esempio più to do list questo è da potete chiamare i file con una forma tipo namespace quindi file pass sono le unit di codice sorgente quindi l'equivalente di un file java o un file cs c sharp o visual basic nulla di più nulla di meno qui sto salvando la finestra che mi ha creato e poi il progetto ok il file di progetto che è un file compatibile con msbuild che consente di raggruppare tutti i file del progetto li vediamo qui in alta destra c'è un project manager questo to do list exe dà l'idea di quello che andremo a produrre con questo eseguibile e questo to do list for main è in questo caso una finestra perché è una finestra perché se andiamo a vedere in realtà è fatta da due file uno contiene il codice e l'altro contiene la definizione la definizione è un po' come per chi lavora in dotnet è un equivalente del designer cs cioè di tutte le personalizzazioni che faccio visualmente finiscono lì dentro è un testo che contiene la struttura della mia finestra viene caricato per rigenerare l'uguale anche quando la lanciamo mentre nel pass c'è effettivamente il codice quindi qui ovviamente ho il designer con cui posso ridimensionare e lavorare visualmente sull'applicazione questa struttura mi dà in questo caso la struttura c'è solo la finestra ma se inizia ad aggiungere controlli vedrete che iniziano a comparire i componenti e tutto quello che vado ad aggiungere l'object inspector se scelgo un elemento come il form e va a impostare quelli che sono il bordo le icone il titolo e il colore di fondo e quindi di ogni cosa che io trascino come qualsiasi ambiente rad diciamo come in windows form in .net ad esempio voglio cambiare il titolo metto un to do list e lo vedo cambiare anche qui in alto magari la form che si chiama form 1 non è molto indicativo chiamiamola main form quindi possiamo iniziare a dare un nome alle cose ad esempio potrei dire metto una casella di testo scrivo dentro un'attività da fare metto un pulsante e la vado ad aggiungere a un elenco di attività quindi potrei iniziare a mettere giù un po' di controlli ad esempio una listbox qui ho la palette dei componenti anche qui sarebbe bello fare una carrellata completa perché ce ne sono più di 400 divisi per categorie ce ne sono quelli standard quindi una parte touch c'è una gestione delle gesture quindi col tasto destro non so fate un tracciato una riga sinistra eliminate un record un po' come nei browser si utilizzava fare dei movimenti col mouse per andare all'home page quindi qui potete ne avete già incorporate potete customizzarle c'è una parte per collegarsi a diversi sistemi cloud come AWS FireDuck e l'accesso ai dati Windows 10 sono i controlli per Windows 10 specifici ci sono veramente tante tanti componenti oltre a quelli di base che sono quelli più noti il checkbox il radio battle l'isbox io non vado mai a spulciarli li conosco quindi vado qui filtro per nome quando ho trovato quello che cerco premo invio e mi viene inserito direttamente nella finestra quindi non so voglio aggiungere una casella di test voglio anche fare qualche allineamento posso mettere un pannello ad esempio dove metto un po' di comandi ad esempio potremmo prendere questo pannello posso agire da qui oppure anche qui diversi wizard tipo questo quick edit che mi fa andare a personalizzare il nome e il testo che voglio vedere sopra più gli allineamenti i layout i margini il colore se c'è ad esempio qui non voglio vedere nessun testo e lo chiamo command panel perché devo identificarli in qualche modo e mi viene impostato così sempre sempre dalla stessa schermata con layout con lineamento posso dirgli ad esempio di allinearsi alla parte inferiore del form quindi pigio e vado a selezionare questo allineamento layout ci sono i margini padding o margin come poi nel web ad esempio quindi questo si aggancia alla parte qui sotto quindi se io muovo la finestra questo ovviamente rimane agganciato voglio aggiungere un pulsante per non lo so inserire oppure mettere un altro pannello facciamo un altro pannello quindi panel lo aggiungo lì quick edit facciamo new task panel pannello per inserire un nuovo task niente testo l'allineamento potete decidere lì o andare a impostare qui sopra lo allineo al top vuol dire che si aggancia alla parte superiore della finestra questa list box che elenca le mie attività da fare potrei chiamarla task list box e potrei dirle di allinearsi in questo caso al client che vuol dire allargati fino a occupare tutto lo spazio che hai a disposizione tranne questi due pannelli che sono uno sotto e uno sopra abbiamo i pannelli aggiungiamo un pulsante un button quindi questo è il mio pulsante potrei ad esempio chiamarlo esci potrei dirgli che si allinei magari alla parte destra della mia della mia finestra magari usando un allineamento con dei margini così lascia anche un po' di spazio quindi inizio a progettare visualmente un'applicazione molto semplice e chiaramente qui è giusto per vedere come funziona l'ambiente mentre noi facciamo questa cosa in realtà dietro le quinte qui sotto il buon il buon ide sta scrivendo già del codice ovvero sta aggiungendo delle dichiarazioni per quelli che sono i componenti che ho inserito più le relative ai unit quando io faccio build possiamo scegliere se incorporare tutto il codice perché abbiamo anche il codice cioè tutta la VCL la FireMonkey tutte le librerie che usiamo per costruire le applicazioni questo è il map del codice sono disponibili con sorgente non vuol dire che sia un prodotto open source però diciamo che avendo a disposizione questo spesso è utile perché si capisce o come fare certe cose tecnicamente o come anche in attesa del bug fix inventarsi un workaround perché si va a vedere anche qual è effettivamente l'operazione e quindi possiamo fare un exe che contiene tutto è un exe nativo cioè non c'è un runtime non c'è una virtual machine da lanciare ma le applicazioni sono native su tutte le piattaforme quindi importano e usano le API che ci sono sulle varie piattaforme e pian piano al momento non abbiamo scritto codice quindi sta solo dichiarando quello che noi abbiamo aggiunto e che viene configurato quindi qui è programmazione oggetti questa è la mainform è una classe che deriva da tform quindi tform è il nostro form vuoto il nostro mainform è un form vuoto che attualmente include una lista due pannelli e questo button uno che non abbiamo ancora al momento battezzato ma che andiamo a definire cosa posso fare a questo button uno ovviamente oltre alle proprietà abbiamo gli eventi quindi abbiamo tutti gli eventi possibili immaginabili click drag and drop ad esempio sul click potrei dirgli potrei dire a questa finestra di chiudere se stessa uso self perché ovviamente il form è una classe quindi noi stiamo lavorando con un'istanza questo è l'equivalente del dis che trovate in javascript o in cshark quindi potrei anche ometterlo in questo caso qui vedete i shortcut li ho messi visibili così si capisce quello che sto facendo quindi di fatto ho creato un metodo nel mainform che risponde al click sul pulsante chiude la finestra e generalmente quando viene chiusa la finestra principale dell'applicazione l'applicazione termina quindi io la posso lanciare è un'applicazione vcl quindi come target platform qui in alto ho windows a 32 bit ma posso aggiungere anche altre piattaforme essendo la vcl posso aggiungere solo windows a 64 bit però ecco se aggiungo anche questo nel momento in cui io qui scelgo windows 32 bit qui in alto faccio una build ho un'applicazione windows a 32 bit un ex scelgo 64 bit rifaccio la build ho la versione 64 bit stesso sorgente nulla di nulla di nulla di diverso quindi sarà lo stesso anche per le altre piattaforme lancio con debugging mi trovo questa finestra ovviamente la ridimensiono quindi i pannelli rimangono ancorati il tasto sotto esci rimane attaccato e quindi è già a tutti gli effetti quando ci vado sopra faccio esci ho chiuso la finestra ho chiuso l'applicazione quindi cosa possiamo fare ad esempio mettere qui un pulsante mettiamoci una casella tipo un edit che è la casella di testo in cui mettiamo la descrizione di qualcosa da fare la facciamo allineare per tenere tutto lo spazio c'è un testo vabbè superfluo che possiamo possiamo fare clear e possiamo andarlo a cancellare cambiamo il nome lo chiamiamo new task edit o description edit giusto per dare un nome alle cose potremmo aggiungere anche copy and colla possiamo usarlo tranquillamente per creare un clone di un pulsante già esistente e con questo pulsante è importante andare ad aggiungere quello che scriviamo all'elenco delle cose da fare aggiungi ecco una cosa molto comoda di Delphi è la presenza ad esempio di un componente che si chiama action list che possiamo andare a selezionare buttare qui dentro che è in grado di definire quali sono le operazioni che potremmo fare in una maschera ad esempio doppio clic apre un editor vuoto potremmo dire che un'azione è quella ad esempio di uscita cioè potremmo dire abbiamo una file exit action un'azione che come caption cioè come testo da visualizzare è scritto con esci magari mettiamo la e commerciale per averlo sottolineato così c'è anche la scorciatoia potremmo dare le altre caratteristiche tipo di delis che è abilitata scegliere un'immagine ad esempio non abbiamo messo immagini però potremmo andare ad aggiungere lancio un tulettino che ha delle icone che potete installare tra l'altro anche con Delphi abbiamo l'image list che è una lista di immagini facciamole un po' mediamente grandi via 24x24 e 32 bit ho arrivato giusto a fagiolo questo qui ad esempio faccio un bel lomino che esce me lo me lo me lo faccio salvare non c'è un 24x24 si c'è ok me lo salvo momentaneamente su disco giusto per per fare una prova lo vado ad aggiungere a questa image list è un png quindi e in questo modo alle mie azioni posso collegare queste immagini per dire a ogni comando quale icona corrisponde posso collegarlo da qui oppure ci sono dei menu ad esempio questo quick select images che mi consente di collegare velocemente alla lista delle azioni ma anche al pulsante ad esempio la lista delle immagini in modo da riflettere questo cambiamento quindi qui potrei dire che l'azione di uscita ha come immagine questo omino qui non so se si vede per un po' piccolino però comunque c'è però potrei creare ad esempio tante altre azioni per dire aggiungo una descrizione facciamo un task add action ovvero aggiungi chiamiamolo aggiungi questo task add action il nome potrei fare un task del late dell'action per eliminare eccetera eccetera quindi mi posso inventare tutte le azioni qual è il vantaggio di usare le azioni è che un'azione ad esempio prendiamo l'azione di aggiunta e mettiamoci un'icona così magari facciamo questa add mi vado a produrre un'icona però avevo qualche icona qui da usare nel una cartella pubblica mi ero scaricato un pochino di icone però vabbè adesso comunque sono sono tutte un pochino grandicelle quindi c'è ancora il mio applicativo sì ad esempio add c'è questo bel più mettiamolo qui ok lo vado ad aggiungere all'elenco così qui metto un add scelgo l'immagine ok una volta che ho definito l'azione cosa fa come si chiama gli posso associare la logica intanto posso associare un pulsante a un'azione questo fa sì che cliccando praticamente con questa assegnazione il pulsante prende sia l'icona che il testo quindi ad esempio avessi un pulsante ma volessi aggiungere ad esempio un main menu classico menu delle applicazioni windows potrei dire mi faccio un menu classico avere il menu file ad esempio con ad esempio una voce di menu che fa l'uscita ecco per fare l'uscita gli associo gli associo all'azione exit in modo che cliccando su questo menu venga eseguita l'azione di uscita oppure cliccando su questo pulsante venga di nuovo eseguita l'azione di uscita gli associo sempre le immagini quindi centralizziamo praticamente i comandi e facciamo sì che al stesso pulsante voce di menu corrisponda un'unica azione che ha una logica ben definita e poi cosa potremmo fare ad esempio potremmo dire facciamo un menu task dove mettiamo un menu che fa da aggiungere ad esempio mi scappa sempre il doppio clic anche il menu ovviamente possiamo assegnarlo alle immagini in modo che quando lo lanciamo faccia vedere qui non me lo fa vedere in anteprima però a runtime lo vediamo faccia vedere le icone ci proviamo a lanciare questo è il tempo di build quando faccio run lui build e fa partire abbiamo l'icona però vedete che abbiamo tutti i tasti spenti perché non abbiamo detto l'azione cosa fa ovvero dobbiamo andargli a dire che l'azione di exit con un doppio clic quando viene eseguita execute chiude la finestra principale l'azione invece di inserimento ad esempio di questo task la task add action cosa fa prende la mia task list box ad esempio va sui suoi elementi e ne aggiunge uno usando come stringa la description edit text cioè il testo che sta nella casella della descrizione quindi questo button click non serve più perché l'azione fa già l'operazione se voi svuotate un gestore di evento e fate salva lui ve lo cancella vi ripulisce tutto qual è il vantaggio ad esempio che potremmo dire che questa azione eseguita inserisce il testo dentro la mia lista di cose da fare però tra gli eventi perché c'è questa finestrella che è rimasta aperta qui sopra tra gli eventi c'è anche un evento che si chiama on update c'è questa proprio che rimane è rimasta proprio lì tra l'altro quando uso anche OBS con le live a volte capita che con i programmi di grafica ci sia qualche 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 glitch on update dicevo poi la vado a tirar via update vuol dire che il programma si trova a dover aggiornare in qualche modo lo stato di queste azioni a seconda di varie condizioni ad esempio qui potrei dire che la mia task add action la mia azione è abilitata se la lunghezza di quello che c'è nel mio description edit nella mia casella di testo è maggiore di zero quindi questo fa sì che quando io scrivo qui dentro qualcosa l'azione è attiva quando la casella è vuota l'azione è spenta quindi se lancio questa applicazione cosa avviene che l'azione adesso è spenta perché la casella è vuota se inizio a scrivere vedete che questo si è abilitato e anche il menu è abilitato ovviamente se io cancello il contenuto l'azione è disabilitata e quindi la vedo spento qui ma vedo spento anche il task quindi praticamente il comando è gestito in maniera centralizzata se scrivo terminare il webinar su Delphi ad esempio che io clicco qui o clicco il pulsante l'effetto è lo stesso faccio aggiungi e la cosa da fare mi compare qui che io clicchi qui su esci o clicco qui l'effetto è lo stesso e l'applicazione termina in questo caso la cosa carina è ad esempio voglio incollare come descrizione qualcosa che sta negli appunti la clipboard per tutte le cose abbastanza comuni e invece che un'azione mia personalizzata ci sono anche delle azioni standard ovvero ad esempio le azioni tipiche di edit come taglia copia incolla ce le abbiamo già tutte quindi io le posso selezionare le posso portare dentro si trascina dentro anche un'icona tra l'altro quindi non ha probabilmente le dimensioni che mi aspetterei quindi andrebbe andrebbe fatto un replace con un'icona un po' più carina quindi perdonate la grafica però a questo punto sul menu qui possiamo dire mettiamolo magari questo lo spostiamo oppure mettiamo qui un un il classico modifica o edit o qualcosa del genere e qui ci mettiamo allora è questo che rompe il mio triplo click che rompe le scatole al mettiamo i vari cut copy paste cioè ci sono già delle implementazioni per le azioni più comune ad esempio per le applicazioni mobile abbiamo il take photo che già prende una foto dalla videocamera quindi ci sono già tutte queste operazioni quindi potremmo dirgli andiamo a lanciare l'applicazione sono qui dentro e scrivo ciao ok seleziono tutto faccio il mio cut faccio paste continuo a fare paste vedete continuo a incollare faccio un copy faccio un paste e lui diciamo gestisce la clipboard e queste sono già presenti nel mio nel mio ambiente quindi questo è un po' il come dire il alcuni dei componenti che possiamo utilizzare pulsanti toolbar abbiamo comunque di componenti ne abbiamo veramente tantissimi anche sulla parte multi device ad esempio siccome abbiamo un po' il tempo agli sgoccioli glielo faccio creare come dire già da un template già un pochino ad esempio master detail master detail demo chiamiamolo qui fa un template dove c'è già un po' di componenti tipici per le applicazioni mobile e usa quel data source che genera dati casuali infatti qui vediamo che ci sono dei contatti con del testo c'è un action list con le azioni che è possibile fare e ci sono questi componenti che praticamente gestiscono come dicevamo prima quel binding cioè fanno sì che ci sia questo generatore di bitmap di un contatto di nome di un contatto di titolo eccetera che di fatto agganciano alla lista che fa vedere questi elementi il testo e il bitmap che vedo il bitmap può essere chiaramente qualcosa di fisso oppure può variare di volta in volta io qui sono target platform android aspettiamo un attimo andiamo su windows lanciamo questa applicazione e quello che vediamo è un po' questa roba c'è c'è anche il componente che si espande per fare una selezione o di contatti oppure si naviga verso l'alto o verso il basso quando voi siete in questa visualizzazione potete vedere come verrebbe con gli stili di windows o sullo stile android o sullo stile ios che ha queste più blu diciamo lo stile mac quindi potete sia visualizzarlo già con questo stile sia fare una multi device preview cioè ad esempio prendere il questa finestra vedere come verrebbe con un po' di zoom in più su un iphone 4 su un android iphone e qui andare ad aggiungere tutti i dispositivi di cui volete avere un'anteprima grafica oppure scaricate l'app che lavora su come dire che lavora sui vari dispositivi e vi fa vedere l'anteprima in diretta vi facciamo vedere che qui ho un se riesco a lanciarlo ho un device android collegato ok che stavo provando un'applicazione ma questo è il mio device android quindi se io prendo questa applicazione l'ho testata su windows e selezioni android 32 bit vado a vedere nel target gli do refresh e vedo il mio device questo è un mio è un un honor un po' vecchiotto però ancora funziona faccio una run forse c'è un ritocco da fare ma vediamo se se è necessario si c'è un errore da da correggere però so lo correggo il volo così riusciamo che c'è il template del manifest che ha bisogno di una correzione volante dovrebbe essere questa vediamo se riesco stavolta a farlo partire quindi qui sta usando le sdk di android per generare l'eseguibile per android e andarlo a copiare sul dispositivo che non vedo più non so perché però l'importante è che faccia partire ok questa è l'applicazione che è partita questa è l'applicazione che stavamo vedendo su windows e che andiamo di fatto a vedere qui mi fa comparire il menu paul davis io sto usando il mouse però adesso se prendo il telefono e uso le dita vabbè voi non mi vedete però non sto muovendo il mouse ma sto usando direttamente l'applicazione e cambiando i contatti e vedendo come viene chiaramente questi sono dati casuali ma una volta che è agganciato un db sqlite o qualcosa del genere riuscite a farlo funzionare come dire anche in quel con un database effettivo quindi esistono varie basi dati oppure scaricando da un api rest i vari ok sono uscito i vari componenti potete fare il debug da qui addirittura abbiamo ad esempio io ho il windows system linux adesso questo è un po' che non lo provo potrebbe qui non la vedo tra le piattaforme ma ok se scaricate da get it il suo package manager il supporto a linux e lo attivate dovreste vedere no questo è sempre il mio android ok qui c'è il mio linux ls c'è la cartella apps con c'è un applicativo che va di fatto lanciato perché siccome l'ambiente è per windows quando lavorate su windows e volete lanciare qualcosa su linux dovete parlare con un tool chiaramente già configurato che vi fa si chiama psver platform assistant che riceve le richieste da leader su windows e vi fa partire ad esempio l'applicazione su si chiama diversamente si è minuscolo via server ok questo è il mio è un linux ricavato in windows è un ubuntu con il vsl questo è il platform assistant server c'è anche o gli ho fatto scaricare anche le librerie per avere il server x cioè proprio l'applicazione cioè se avessimo il desktop di ubuntu basterebbe lanciare questo programma che comunica con questa porta se scelgo ubuntu come deploy faccio run praticamente trasferisco qui l'applicazione e dovrei vederla apparire nel nel desktop di ubuntu qui non sto vedendo nulla ma sta ancora lavorando qui quello che se tutto va bene ottengo ecco è arrivata sto vedendo l'applicazione che sta girando su linux però emulata da windows che di fatto vedete che c'è c'è diversa come aspetto perché la vedrei ecco su ubuntu la vedreste così ecco riassumendo quindi in maniera molto simile come viene su windows però chiaramente con i suoi stili funzionalmente è uguale quindi qui è windows che come dire sta emulando linux ma se lanciassi il desktop di ubuntu la vedrei apparire così questa è un'applicazione visuale quindi ha maggior ragione un'applicazione console che contiene magari un servizio che gira su un docker linux stessa cosa quindi diciamo purtroppo il tempo è ristretto le cose fattibili sono sono tante però nel corso di alcune live che ho fatto se guardate il mio link di riferimento trovate che abbiamo fatto cose di ogni tipo tra giochi e cose di di ogni qualche esempio ce l'ho però sarebbe lunga vederli tutti abbiamo fatto addirittura una tombola quindi con file monkey adesso non so neanche se parte perché l'ho scaricata poco fa probabilmente ci mancano i file ci mancano i file audio perché c'era anche un audio dove diceva appunto il e faceva l'estrazione dei numeri quindi file monkey è adatta anche non solo per disegnare interfaccia utente business però faccio un riquadro lo rendo semi trasparente metto il font con l'antiaglias metto le animazioni faccio spostare gli oggetti cioè è una è una cosa grafica che questa applicazione gira su windows tanto come sul tablet android o su qualsiasi altra piattaforma quindi invito la community che è gratuita a sperimentare qualunque cosa vi venga in mente effettivamente queste cose sono sono carine e il codice che si scrive non ne abbiamo dato questo bingo il codice che abbiamo scritto è tutto è questo questo è il codice sono 200 righe e basta fondamentalmente in 200 righe il resto fa tutto il framework di riferimento quindi le slide forse c'è qualcosa ma direi che abbiamo finito ok c'era il demo il demo FireMonkey quindi spazio alle vostre domande io scusate per la velocità però come vedete di cose ce ne sarebbero da esplorare veramente tante abbiamo solo proprio visto la superficie grazie mille abbiamo visto tante cose e complimenti allora c'è una al momento c'è una domanda che Alberico ha scritto all'inizio del webinar esiste una versione gratuita dell'ambiente di sviluppo sì che è la community adesso vi recupero la slide però se andate su dove era dove era era qui vicino eccola qua su forse però non la no dovreste vederla perché ho messo su embarcadero punto com c'è proprio c'è free tools e c'è una registrazione da fare preferibilmente non in azienda ma a casa perché spesso cioè a volte capita perché dopo come dire sono c'è un po' di marketing che funziona un po' sì un po' no e quindi sono criticati anche un po' per questo che un po' il marketing non è proprio censo però sì questa si usa si rinnova di anno in anno anche perché poi escono man mano che escono le versioni aggiornate aggiornano anche questa non con lo stesso ritmo perché ovviamente i clienti paganti sono più come dire incentivati però al momento per certi versi è anche meglio perché alcune feature vengono messe quando sono stabili definitivamente quindi però c'è dentro un po' di tutto ecco le applicazioni che io generalmente faccio o quelle che abbiamo visto si fanno tranquillamente con questa quindi c'è proprio di tutto manca le funzionalità enterprise perfetto Marco allora siamo quasi in chiusura mi piacerebbe comunque dire che comunque tu fai delle live su twitch proprio su Delphi quindi chi volesse approfondire sempre di più l'argomento Delphi tu comunque sei live mi dicevi in quali giorni io cerco lunedì e mercoledì anche se due giornate a settimana è abbastanza impegnativo però sì anche perché altre tecnologie sono abbastanza trattate quindi generalmente prediligo questa ma non è detto che puoi però sì mi capita spesso di sperimentare qualcosa l'ultima volta avevo fatto un po' di componenti bluetooth per mettere in comunicazione applicazioni tramite bluetooth e quindi è una cosa generalmente un po' ricreativa in modo che uno non è che si metta lì a già è serale a studiare infatti e spesso non sono preparate perché non potrei preparare due non sono qui i tutorial ci si mette lì poi c'è gente collegata e a volte si chiacchiera anche del più e del meno comunque sono tutte pubblicate anche su sul mio sito c'è proprio una carrellata completa con in alcuni casi anche i sorgenti scaricabili per uno che voglia tipo quello della tombola o così quindi volendo uno può prenderli anche come spunto per provare a sperimentare nella live si vede come esce abbiamo fatto anche qualche gioco di solito gli do dei nomi un po' sciocchi per attirare l'attenzione però quindi abbiamo sì abbiamo fatto un po' di tutto quindi da lì si ha una carrellata completa quindi sicuramente è più utile per vedere anche tante altre cose che si possono fare con l'ambiente con uno sforzo secondo me molto limitato perché a volte non scriviamo neanche codice quindi che è per cui va bene è un buon vantaggio volevo anticipare anche che con Marco abbiamo già pianificato qualche altro webinar insieme e parleremo di Python giusto? sì perfetto ottimo allora siamo in chiusura come sempre vi invitiamo a seguirci sul vostro canale social preferito siamo su Facebook Instagram LinkedIn e Twitter detto questo il webinar è terminato grazie a Marco Berveglieri e ci vediamo al prossimo webinar buona serata a tutti grazie mille ciao Marco ciao a tutti grazie